Il Mein Kampf fa schifo, è improponibile, è irricevibile, ma per questo non va visto come un libro proibito, illegale, da bruciare. I nazisti bruciavano i libri? Siamo forse nazisti, bruciamo i libri? C'è un altro libro che ne parla, no? Fahrenheit 451, titolo che si riferisce alla temperatura con cui vanno messi al rogo i libri. In realtà poi la temperatura dipende molto dallo spessore della carta, ma cosa vuoi pretendere da un populista come Bradbury? Abbiamo tra l'altro già lavorato con il mio team su Fahrenheit 451 e l'abbiamo intitolato, volendo proprio fare una media, Celsius 233. Ma poi, sottotitolo, ma poi ve la vedete con Greta. Adesso è un romanzo che parla tutt'altro, parla degli orrori della cancel culture quando non è ecosostenibile. Lo slogan infatti non è più bruciare sempre, bruciare tutto, il fuoco splende, il fuoco pulisce, scusate, ma è ricicla sempre, ricicla tutto, l'ambiente splende, l'ambiente pulito. Notate che c'ha un altro respiro, ti viene voglia di fare giocare i bambini sul pavimento. Quindi capite che un romanzo può essere recuperato. E anche il Mein Kampf, dunque ci siamo messi subito all'opera per recuperarlo, perché il Mein Kampf va recuperato, corretto, e sarà disponibile nei banchi di media inferiori e superiori entro il 2023. Col team ci siamo subito messi al lavoro, ma capite bene che qua di vacate ce ne sono proprio tante. Cioè, a partire dal titolo, Mein Kampf, la mia battaglia. Oh, calma, anche meno, subito sanguigno, subito aggressivo. È un piano politico, no? Andrebbe bene la mia proposta. La mia proposta. Però qua dicono che a volte anche le proposte possono essere coercitive, quindi abbiamo pensato di intitolarlo My2Sense sul futuro della Germania. Notate My2Sense, è già spontanea, simpatica, e con l'inglese così fluido non si sbaglia mai, e non corri il rischio di spoiler alert, perché qua c'era spoiler alert. Poi nessuno l'ha notato, ma c'era spoiler alert. E poi sta svastica, ragazzi, messa così, storta, un pugno in un occhio. Ma porca miseria, sei stato un anno in carcere, vai a controllare le fonti, fai questa svastica bene, no? Sei pieno di nazi grammar, avrai anche un nazi designer, chiede a un tuo amico, chiede a Walt Disney. Ma porca miseria, cerca di... Abbiamo modificato lo svastica, l'abbiamo messa come dritta e con degli asterischi, no? Giusto, proprio per dire, vedici quello che vuoi. Ma adesso veniamo all'opera. Allora, in tutta la sua prima parte del libro, diciamo, chiamiamolo libro, Adolf racconta della sua infanzia, e qua spara delle vaccate senza senso sulla sua giovinezza, su una famiglia amorevole, in realtà il padre lo corcava di botte. Però già nelle prime pagine capiamo dov'è il seme del male, perché lui voleva diventare un pittore. Voleva diventare un pittore, ma non ha superato il test di ammissione all'Accademia delle Belle Arti di Vienna. Io quando l'ho letto dico, cosa? Cosa? Ma qualcuno, dico qualcuno, si è mai preso la briga di mandare a Norimberga quella commissione? E i danni li ha pagati solo la Germania, Vienna se ne è fottute, no? Immagino il docente d'arte che si confronta col collega, dice, sai il bello di questo lavoro? Che se ti va, ogni tanto puoi segarne una cazzo, tanto che cosa potrà mai succedere? Vent'anni dopo il mondo è in fiamma, 50 milioni di morti per un acquerello, oh! Ma siamo impazziti! Quindi via questa parte, via questa parte, perché non si deve sapere. Tutti hanno il diritto di essere artisti e morire di fame come meglio credono, ok? Poteva provarci e mentre ci provava faceva un lavoro, diciamo così, usurante, che lo teneva occupato. Ne sarebbe stato contento anche lui. Lo scrive anche, proprio nel Mein Kampf, dice, meglio essere uno spazzino nel Reich che re in uno stato straniero. Tra l'altro vi rendete conto della baccata, della mente malata, spazzino nel Reich, operatore ecologico nel Reich. Bene, ma ora veniamo al punto caldo, no? Abbiamo dedotto, leggendo Mein Kampf, my two cents sul futuro della Germania, che Adolf era in fissa con la questione della razza. Lui ci teneva soltanto ai tedeschi, 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 che è molto generoso essendo lui austriaco. È un po' come uno di mestre che sfoggia l'orgoglio veneziano. Ma qual è il punto? Il punto è che lui, scusate, ma di baccata ce ne sono proprio tanto, lui ha basato tutto il suo trattato su questa cosa della razza, dando la colpa agli ebrei, che è qualcosa di irricevibile, è una baccata tremenda. Come fai a prenderti dei consensi in politica dicendo che la colpa è degli stranieri? Chi si beve sta baccata, no? Lo spiega anche, però questa baccata lo spiega bene nella parte finale, quando parla della propaganda, no? Sostanzialmente cosa dice? Non importa se dice delle baccate, l'importante è ripeterla a martello come uno slogan, no? Slogan semplice, in maniera che arrivi anche alla mente del più stupido essere umano, no? Arrivi il concetto. Quindi cancelliamo, direi, tutta questa parte, no? Perché è una falla democratica che non sia mai, che non sia mai che qualche politico d'oggi scopra. Allora, ma lui che fa? Appunto, martella su questa cosa della razza. Adolf, abbiamo contato, scrive la parola ebreo 454 volte. La parola ebreo 454 volte. Tra l'altro sbattendosene completamente del femminile. Ma che schifo è? Qualcuno qua proponeva la schwa, ma sappiamo che tra i lettori del Mein Kampf è pieno di negazionisti della schwa. Quindi abbiamo semplicemente tirato una riga, abbiamo semplicemente tirato una riga su tutte quelle cose, sì, sui ragionamenti xenofobi, su quelli razzisti, sui discorsi sulla stir pariana, perché non hanno validità scientifica, su quelli contro il marxismo, perché non c'è il contraddittorio. Che cosa mi parli del marxismo se non c'hai... Allora, via. E soprattutto i compromettenti elogi della Germania all'Italia, che manco fosse il governo Draghi. In poche parole, da 250 pagine, questo libercolo è diventato un libro di 5 righe, che adesso andrò a leggervi. Allora, immaginate che non ci siano patrie, non è difficile farlo, è nessuna religione, immaginate tutta la gente che vive la vita in pace, si potrebbe dire che io sia un sognatore, ma non sono l'unico, spero che un giorno vi unirete a noi e il mondo sarà come un'unica entità. E' fantastico, Mein Kampf recuperato. E ancora, poteva essere un pittore. Grazie mille, Elena, grazie mille. Se avessi il drappo ricamato delle budella dei barbari, in tessuto di sterco e melma, i drappi dai colori chiari e scuri del sangue, dai mezzi colori dell'arterioso alcoagulato, senderei quei drappi sotto i tuoi piedi. Invece, essendo uno storico, ho soltanto massacri. E i miei massacri ho steso sotto i tuoi piedi. Cammina leggera, perché si scivola.